Benvenuti al nostro telegiornale in apertura, vediamo i dati e gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Molise. Il servizio. Un solo nuovo positivo, una persona di Carovilli su 164 tamponi processati e 6 guariti, tasso di positività allo 0,6%, sono questi i numeri dell'ultimo bollettino dell'ASREM, quello domenicale, che continua a fotografare una situazione in netto miglioramento in Molise per quanto riguarda il Covid, in linea con quanto sta avvenendo da giorni. Calano gli attualmente positivi, che sono 200, di cui la maggior parte, 121, in provincia di Campobasso. Restano 20 ricoverati al Cardarelli, di cui sempre 5 in terapia intensiva. Nelle ultime ore, infatti, nessun nuovo ricovero, ma anche nessun dimesso. La buona notizia continua ad essere quella che non ci sono decessi. L'ultimo, riportato nel bollettino dell'azienda sanitaria regionale, risale a giovedì 13 maggio. Il totale delle vittime da inizio pandemia nella nostra regione è 488. I guariti sono 12.863. La settimana inizia con l'Italia tutta colorata di giallo e con le restrizioni che continuano gradualmente ad essere allentate. Riaprono, infatti, le palestre. Con l'attuale situazione, il Molise deve pazientare esattamente una settimana prima di diventare zona bianca. Le vaccinazioni continuano spedite in Molise, superata quota 175.000. Nelle scorse ore sono arrivate altre dosi di vaccini e altre sono in arrivo, come le 10.530 di Pfizer. Il commissario Figliuolo, intanto, ha invitato le regioni ad evitare annunci di iniziative non concordate e ad aumentare in modo graduale il coinvolgimento dei medici di base, pediatri, farmacisti e altri operatori del servizio sanitario. Tutto è comunque legato ai rifornimenti di vaccini, così come l'AstraZeneca Day, che si vorrebbe fare a breve anche in Molise. Giugno, come affermato dalla struttura commissariale nazionale, dovrebbe essere il mese della svolta. Operatori sanitari a partita IVA Toma, favorevole alla proroga dei contratti. Ribadisco quello che ho già espresso con la mozione votata all'unanimità in Consiglio. Non possiamo perdere queste professionalità. La loro presenza è necessaria sino alla fine dell'emergenza, ha detto il Governatore. Adesso si attende che il Presidente del Consiglio, Micone, convochi l'Assemblea straordinaria, l'Assemblea regionale straordinaria, chiesta dalle opposizioni. Sentiamo Pasquale Di Bello. Sulla vicenda degli operatori sanitari a partita IVA prende posizione, o meglio, riprende posizione il Presidente della Regione, Donato Toma. Raggiunto telefonicamente, dice, ribadisco quello che ho già espresso lo scorso 14 gennaio, quando in sede di Consiglio regionale è stata approvata all'unanimità una mozione con la quale abbiamo chiesto all'Asrem la proroga dei contratti. Sul piano tecnico, dice sempre Toma, la Regione non può intervenire, ma aspetterà al commissario raccordarsi con l'azienda sanitaria. Quello che voglio sottolineare, ha detto sempre Toma, è che non possiamo privarci di un patrimonio di esperienza maturato in ambito Covid, almeno sino a quando non sia terminata la fase emergenziale. Andrà poi riconosciuta, ha concluso il Presidente, una premialità in favore di queste persone in relazione alle nuove procedure di reclutamento. Con la presa di posizione di Toma si determina nuovamente la saldatura tra maggioranza e opposizione già registrata a gennaio, quando il tema degli operatori a partita IVA venne posto per la prima volta. Quella raccomandazione, tuttavia, è restata sinora a lettera morta. Adesso, in vista dei contratti in scadenza il prossimo 31 maggio, sono state le opposizioni PD e Movimento 5 Stelle a riproporre il tema. Inoltre, sul piano parlamentare, la questione è stata posta al Governo centrale attraverso un ordine del giorno della parlamentare molisana Rosalba Testamento, la quale ha sollecitato l'esecutivo al reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dell'operazione. I tempi sono strettissimi, ma vi è una convergenza di intenti che lascia intravedere una soluzione auspicabile a favore di chi all'insorgere della pandemia si è trovato in prima linea tra reparti e corsie insieme al personale medico. Va ricordato che sempre nella prospettiva dell'affiancamento al nuovo personale reclutato dall'ASREM sono scesi in campo tutti i primari degli ospedali molisani interessati all'emergenza Covid. Davanti ad uno schieramento così vasto che va dalla politica alla medicina, una soluzione più che auspicabile diventa necessaria. Oggi è la giornata della legalità nel ricordo di tutte le vittime di mafia. 29 anni fa la strage mafiosa di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tre uomini della scorta il 19 luglio. Un altro attentato costò la vita al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta. Oggi più che mai, ha detto il Presidente della Regione Donato Toma, è necessario investire in istruzione e formazione partendo proprio dalla scuola per costruire una corretta educazione alla legalità. L'esempio di chi ha lottato contro la mafia sacrificandosi, ha detto invece il Presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, va mantenuto in vita perché da servitori dello Stato hanno tenuto testa durante anni difficilissimi per l'Italia a chi provava a rinforzare invece l'antistato. Quel sacrificio estremo, ha sottolineato il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, va rinsaldato da ogni cittadino con le proprie azioni e con il proprio modo di pensare ogni giorno, ovunque. E lo Stato, con le sue istituzioni, ha il dovere di continuare a lottare con trasparenza e determinazione contro ogni forma di illegalità. È fondamentale lavorare fin dall'infanzia. È il messaggio della Garante regionale per i diritti della persona Leontina Lanciano, affinché i bambini di oggi possano essere domani degli adulti consapevoli dei valori civili e rispettosi della democrazia. Il Governo stanzia 100 milioni di euro nel decreto sostegni per aiutare la ripresa turistica montana, ma la metà va al solo Trentino. Il disappunto di Bussone Paglione, presidente nazionale e presidente molisano dell'UNCEM. Così si decreta la morte del Molise e delle zone interne, ha detto Paglione. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Una decisione che fa discutere. Il Governo centrale ha stanziato solo 100 milioni per aiutare la ripartenza turistica nelle zone montane. Tuttavia, quasi la metà di quei fondi sono destinati alle sole province autonome di Trento e Bolzano. Da qui il disappunto del presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, Marco Bussone, che denuncia una sperequazione dei finanziamenti. Per lui è certamente importante che vi siano altri 100 milioni di euro, nel decreto sostegni bis per i comuni montani e turistici. Tuttavia, bisogna intervenire per sanare una disparità evidente. Parla perciò in un comunicato di correttivi da mettere in atto subito per evitare un complicato quadro, con uno sbilanciamento delle risorse sulle due province autonome e la necessità di individuare altri fondi per le attività economiche nei comuni montani dell'Appennino, dove il turismo è andato in crisi per mancanza di flussi, arrivi e presenze. Sulla stessa lunghezza d'onda, il presidente dell'UNCEM Molise, Paglione. Credo che non sia una bella cosa aver distribuito su 100 milioni del decreto ristori, specificatamente dedicato al sostegno delle montagne italiane, e ben 47 milioni e mezzo alla sola regione Trentino-Alto Alice. Al Molise circa 250 mila euro, quindi una cifra davvero risibile. Questo riapre un po' il vecchio tema delle montagne che contano, delle montagne importanti, cioè quelle delle Alpi, delle montagne dove nevica firmato, tanto per capirci, dove si fanno le Olimpiadi, e le montagne dell'Appennino che invece sembrerebbero essere figlie di nessuno. e noi abbiamo espresso come UNCEM regionale e nazionale una ferma protesta, cioè per dire che questo criterio va rivisto, o perlomeno vanno individuate altre risorse, perché anche le montagne dell'Appennino, anche le stazioni sciistiche dell'Appennino hanno sofferto della crisi legata alla pandemia dovuta al Covid. Pertanto credo che non si possa andare avanti questo passo, non può valere sempre la legge del più forte, c'è chi alza la voce di più, chi si sente più forte, ogni volta ottiene di più. Credo che debba essere invece ristabilito un riequilibrio territoriale, ma anche un atteggiamento di grande equità, perché significa a questo punto avere rispetto per tutti i territori italiani. Non ci sono territori di serie A e territori di serie B. Io spero che ci sia un ripensamento e che alla fine vengano date le risorse che necessitano per dare quella che io ho definito una sorta di carezza alle popolazioni, agli operatori, all'economia di questi territori che tanto ha sofferto e sta ancora soffrendo. È stato trasferito nel carcere di Regina Celi, il cinquantenne originario del Cassinate, arrestato all'aeroporto di Fiumicino per violenze aggravate e continuate nei confronti delle figlie minorenni. L'uomo fino al 2019 era vissuto in un paese dell'Interland Isernino. Interrogatorio di garanzia per lui dunque domani è assistito dall'avvocato Antonio D'Alessandro. Secondo le accuse avrebbe abusato delle figlie minorenni per una quindicina di anni. Era andato in Scozia, in un villaggio vicino Edimburgo, dove vendeva caramelle, attività che svolgeva anche a Isernia. Rintracciato dalla polizia scozzese, è stato estradato e quindi arrestato a Fiumicino. Sempre più frequenti i problemi nei rapporti di coppia. In tre anni oltre 300 le richieste di supporto nel centro di aiuto alle famiglie voluto dalla diocesi di Termoli Larino. Il servizio è di Andrea Nasillo. I problemi di coppia e nell'ambito familiare sono sempre più frequenti. Le incomprensioni che si registrano nel contesto affettivo sono diventate una costante. Al centro di aiuto alla famiglia, di fatto un importante consultorio attivato dalla diocesi di Termoli Larino, in tre anni sono arrivate oltre 300 richieste di supporto. Un numero che fa riflettere. In occasione della giornata nazionale della consulenza familiare, anche nella struttura termolese, uno speciale open day. In questa realtà i consulenti familiari, come professionisti socioeducativi, aiutano la coppia e il nucleo familiare ad attivare, nelle loro dinamiche relazionali, le risorse interne ed esterne per affrontare crisi, cambiamenti e situazioni difficili. Questo centro, voluto dal Vescovo Monsignor De Luca, ha tre anni di vita. Noi abbiamo registrato oltre 300 casi in questi anni, quindi le problematiche sono legate alla singola persona, come alla coppia, come anche alla famiglia che vive soprattutto il ruolo educativo verso i figli. Pertanto il nostro è un luogo di grande ascolto, di accoglienza, di ascolto e di accompagnamento aiutando le persone attraverso le professionalità che ci sono nel centro, dal consulente familiare, lo psicologo, la psicoterapeuta, anche altri professionisti, perché le persone che portano un disagio, un problema, possono venirne fuori secondo quello che noi abbiamo a disposizione. Questo importante servizio sostiene le famiglie nella complessità delle loro relazioni e nelle fasi di cambiamento che rientrano nella norma e non nella patologia. Sono soprattutto difficoltà di tipo relazionale, in gran parte dovute anche alla fretta del vivere quotidiano, per cui rispetto alle famiglie del passato, nelle famiglie di oggi mancano dei tempi e degli spazi di condivisione anche della relazione. Quindi sicuramente c'è questo tipo di difficoltà, come molto spesso ci sono delle difficoltà nella relazione genitori-figli, perché sappiamo bene che soprattutto quando i figli entrano nella fase dell'adolescenza questo manda sempre molto in crisi i genitori rispetto ad un modo oggi dei ragazzi di vivere l'adolescenza che viene sentito molto diverso, molto più frenetico e a volte anche più a rischio rispetto all'adolescenza delle generazioni precedenti. Quindi le problematiche che in genere portano le famiglie in consulenza familiare sono problematiche proprio di tipo comunicativo, di dialogo e relazionale o nella coppia o nella relazione genitori-figli. L'Associazione Progetto Endometriosi ha chiesto l'intervento della consigliera regionale di parità Giuseppina Cennamo per riportare l'attenzione su questa malattia invalidante, ma anche sulla legge per l'interruzione di gravidanza. Sentiamo Manuela Iorio. Tutelare le donne affette da endometriosi oltre 3 milioni in Italia e rispettare la legge 194 del 1978, che disciplina il diritto a richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza per motivi di salute, economici, sociali e familiari. L'APE, Associazione Progetto Endometriosi, formata da volontarie che in tutta Italia si impegnano per creare consapevolezza e fare informazione su questa malattia invalidante e difficile da diagnosticare, si rivolge con una lettera ufficiale alla consigliera di parità della regione molise Giuseppina Cennamo per evidenziare una serie di carenze che toccano la sfera dei diritti alla salute e dei diritti delle donne, chiedendo di farsi portavoce per trovare urgentemente soluzioni. In primo luogo c'è la necessità di avviare una serie di monitoraggi per la tutela delle donne affette da endometriosi e garantire un piano diagnostico-terapeutico adeguato. Ma viene chiesta attenzione anche rispetto alla legge 194. In Molise, infatti, nella sanità pubblica c'è solo un medico non obiettore di coscienza, il quale è prossimo alla pensione. Siamo tutti a favore della vita, spiega Annalisa Frassineti, presidente di APE, ma crediamo sia altrettanto corretto applicare adeguatamente una legge complessa e fare in modo che una fase dolorosissima della vita di una donna sia quanto meno possibile come libera scelta e affrontata nel rispetto psicologico della paziente, così come nell'assenza di personali ideologie da parte degli operatori sanitari. Sul tema delle endometriosi, invece, interviene anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo, che ricorda come, con apposita legge, quella del 10 febbraio 2015, la regione Molise aveva disposto di tutelare le donne affette da endometriosi, promuovendo la prevenzione e la diagnosi precoce, nonché il miglioramento delle cure. Tuttavia, in Molise, il testo di legge resta ancora sulla carta. A riguardo, mesi fa, la Manzo aveva presentato un'interrogazione nella quale chiedeva al presidente Donato Toma quali fossero le azioni adottate per il raggiungimento delle finalità inserite nel documento di legge. Una richiesta, purtroppo, rimasta ancora in evasa. A questo punto, unendosi alla denuncia fatta dall'Associazione Progetto Endometriosi, anche la Manzo chiede soluzioni immediate, sicura che, con il coinvolgimento della consigliera regionale di parità Giuseppina Cennamo, il tema tornerà presto in aula. Controlli antidroga nel Basso Molise da parte dei carabinieri di Termoli dopo aver perquisito un 41enne incensurato a San Giacomo degli Schiavoni, gli hanno trovato addosso tre involucri con poco meno di tre grammi di eroina. I militari sono riusciti a risalire anche allo spacciatore un 53enne del luogo con precedenti che in casa aveva dell'eroina un bilancino elettronico di precisione materiale per confezionare la droga. È stato denunciato per spaccio e detenzione ai fini dello spaccio, mentre il 41enne, residente nella provincia di Campobasso, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. Si chiama Anni collaterali, il romanzo di Marco Ursano che è stato al centro della videoconferenza tra l'autore e gli studenti di tre classi del liceo scientifico Romita di Campobasso. Temi e opinioni a confronto su 40 anni della nostra storia, gli anni 80 e 90, gli anni del passaggio dall'analogico al digitale, ma anche di importanti eventi mondiali. Il servizio è di Anna Maria Di Matteo. Faccia a faccia virtuale tra i ragazzi di tre classi del liceo scientifico Romita di Campobasso e Marco Ursano, autore del romanzo Anni collaterali che è stato al centro della due ore di videoconferenza. Un momento di riflessione su 40 anni di storia contraddistinti tra l'altro anche dal passaggio dall'analogico al digitale. Anni che restano impressi nella mente e nella memoria dei genitori degli studenti che hanno partecipato all'incontro, non dei ragazzi stessi che però grazie al romanzo hanno avuto modo di conoscerli seppure indirettamente. Ma è stata un'esperienza meravigliosa. Ho trovato una preparazione negli studenti e nel corpo insegnante che veramente non ha... raramente ho incontrato nelle mie esperienze di confronto con le scuole, l'ho fatta diverse in giro per l'Italia. Ma devo dire che questa è stata veramente particolarmente gratificante e emozionante. Cosa l'ha colpita in particolare? La profondità di analisi sul mio libro hanno colto degli aspetti particolarmente difficili da cogliere. Non è un libro semplicissimo. I ragazzi sono stati veramente acuti, profondi. È stata un'emozione unica. Devo dire, un grandissimo lavoro tra docenti e studenti che è veramente di eccellenza. non lo dico per piagerie ma veramente lo penso da vero. Devo ringraziarli veramente. È un'iniziativa ormai incardinata nell'offerta formativa della scuola e anche in questa fase così particolare siamo riusciti a far vivere ai nostri studenti questa importantissima opportunità di colloquiare direttamente con l'autore di un testo molto particolare e molto singolare che sicuramente ha permesso ai nostri studenti di conoscere uno spaccato relativo alla nostra storia recente che per alcuni fa parte di un vissuto ma per loro in un certo senso fa parte proprio di storia. Professoressa Di Claudio come è andato l'incontro con l'autore? Direi benissimo. L'attività del Dipartimento continua e continua a creare empatia anche a distanza. I ragazzi hanno letto un libro che ha riguardato anni che non hanno vissuto della loro vita e attraverso la lettura hanno conosciuto la guerra del golfo e anche la caduta delle torri gemelle e in più si sono identificati con le sofferenze e le gioie del personaggio che è adolescente giovane e poi adulto. Molto incuriositi soprattutto per il carattere lirico della prosa paratattica dell'autore molto coinvolti emotivamente tanto da voler realizzare recensioni lavori e porre domande con citazioni e cercare di scandagliare il libro in ogni modo. I nostri ragazzi tre classi del Romita hanno letto questo splendido libro per cui dobbiamo ringraziare l'idea della collega Daniela Di Claudio e dobbiamo ringraziare questa straordinaria casa editrice che è veramente una chicca. All'interno di maggio mese dei libri tre classi del Romita hanno letto un libro che segna il tempo la lettura e la scrittura per gli adolescenti ma anche per il mondo adulto. Pensate di portare avanti questa iniziativa anche nel prossimo anno scolastico? Sicuramente sì perché appunto i ragazzi sono coinvolti vediamo che piace anche questo tipo di riscontro e quindi è molto partecipativo partecipato e quindi anche da parte degli autori incontrare i ragazzi per loro è anche una cosa positiva perché hanno il modo di vedere il risultato anche del loro lavoro e della loro scrittura soprattutto. Partecipato presidio di solidarietà Campobasso in piazza prefettura ieri pomeriggio per il popolo palestinese cittadini associazioni esponenti di partiti politici e di sindacati con striscioni bandiere altoparlanti e casse si sono ritrovati per esprimere il loro pensiero e la solidarietà al popolo palestinese a chi sta soffrendo un conflitto che ha fatto già diverse vittime anche tra civili ci sono i bambini in piazza anche una rappresentanza dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese a organizzare l'iniziativa a casa del popolo di Campobasso tutto si è svolto nel rispetto delle norme anti-covid a distanza di 73 anni dalla prima tragedia del popolo palestinese hanno detto da casa del popolo continua la politica israeliana di apartheid pulizia etnica ed espulsione piena è la solidarietà e il sostegno alla resistenza dei palestinesi hanno continuato approdata Isernia una carovana di auto d'epoca appassionati alfisti e una clinica odontoiatrica Isernina uniti per un tour della solidarietà i dettagli da Barbara Fino ha fatto tappa nella città di Isernia in cui ha sede una delle cliniche odontoiatriche di odontosalute il tour della solidarietà e della salute orale una carovana di auto d'epoca allestita dalla casa madre del marchio friuleano in collaborazione con Cinemalfa un'associazione di appassionati alfisti che ha prodata davanti alla cattedrale come tappa intermedia di un tour che ha toccato diversi territori italiani scopo dell'iniziativa quello di donare cure odontoiatriche alle famiglie più bisognose la passione per le auto d'epoca combinata con la solidarietà e ancora con la salute dentale è una carovana che sta facendo il giro d'Italia che approda inevitabilmente Isernia perché devo dire con orgoglio Isernia è tra i punti di riferimento di questo network nazionale delle cliniche odontosalute ecco perché accogliamo favorevolmente questa iniziativa che parte dalla casa madre e che come dire diventa in qualche maniera un tutt'uno con le iniziative che noi quotidianamente proponiamo sul territorio fare un tour nelle nostre cliniche dove siamo presenti nelle varie regioni per offrire delle cure dentali gratuite a quelle che sono le associazioni presenti nel territorio e che si occupano ovviamente di sostenere le persone più bisognose le auto d'epoca hanno fatto da scenario ad un momento di condivisione di solidarietà due le donazioni fatte dalla clinica odontoiatrica Isernina destinate al centro di accoglienza a casi e alla Caritas Diocesana all'evento presente anche il viscovo Monsignor Camillo Cibotti che si è detto entusiasto dell'iniziativa ho gradito notevolmente che queste occasioni servano anche a pubblicizzare quanto dovrebbe appartenere alla nostra vita di uomini e di donne impegnati nel sociale cioè la solidarietà ieri sera l'amministrazione comunale di Agnone ha dato il via al festival teatrale rientrante nei linguaggi del fuoco in alto molise che ha fatto riaprire le porte del teatro italo-argentino sala al completo per la rappresentazione dialettando con il fuoco e si sono aggiunti tutti gli spettatori ai presenti che hanno approfittato dello streaming live messo a disposizione dal comune oltre al sindaco Daniele Saia in platea anche l'assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno provo una grande emozione ad essere su questo palco perché finalmente iniziamo a respirare l'aria del cambiamento del ritorno alla normalità ha spiegato il sindaco Saia è tutto termina qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci grazie per averci seguito